Allora parliamo con? Damiano Rizzi. Della agenzia? Associazione Sole Terre, ONG Sole Terre. Quindi avete vinto questo premio per? Dunque la sezione stampa, secondo classificato ex equo, sezione sociali e primo classificato categoria sociali no profit. Cosa rappresenta per voi questo premio? Rappresenta la possibilità di fare una rivoluzione d'amore, come dice la scritta Re, Love, Ocean, nel senso che forse non possiamo cambiare il mondo, ma insieme possiamo cambiare un mondo di cose. Quindi l'agenzia ha colto questo nostro messaggio di non solo risolvere quei problemi che possiamo risolvere, ma cercare di determinare alla radice il motivo per cui sorgono questi problemi, che è letteralmente una rivoluzione d'amore. La creatività e la comunicazione fanno bene? Sì, fanno bene. Ok, un giudizio sulla serata? È sicuramente molto interessante, è bello vedere appunto creatività e idee che a noi servono sempre, tanto più quando dobbiamo comunicare delle campagne sociali. Quindi interessantissima e poi siamo molto fieri del premio e ringraziamo chi ha di via Aqua Group, perché anche grazie a loro siamo riusciti a far passare il messaggio che diceva Damiano, che ogni diritto tutelato è una rivoluzione d'amore. Quindi per noi questo è fondamentale. Grazie.